Il progetto GoFigo punta all'utilizzo dei derivati del prodotto tipico della nostra produzione agricola, cioè il figo d'India, le cui sostanze sono assolutamente importantissime, a parte il frutto, perché sono sostanze che nel campo della nutraceutica, ma anche della farmaceutica, consentono di mettere a punto dei prodotti utilissimi per la cura di alcune patologie, ad esempio tutte quelle dell'apparato digerente. Il parco scientifico è il soggetto capofila. Il parco scientifico è una società, un organismo di ricerca, è una società consortile per azioni, di cui la regione detiene l'87% delle azioni e i privati il 13%. Un organismo di ricerca ovviamente nei campi dell'agricoltura, in cui è sempre stato presente, ha parecchi lavori che sono stati fatti nel passato, tutti tra l'altro anche di alto livello. L'altro campo è naturalmente quello delle scienze della vita, nel quale ci stiamo specializzando, sono i settori chiave strategici delle strategie della regione per lo sviluppo del futuro. Il progetto Go Fico è un progetto finanziato con la misura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Un progetto che si impernia all'interno della filiera Fico d'Indicole e chiama raccolta tutte le forze di questo comparto. Aziende Fico d'Indicole dei quattro poli siciliani, dell'Etna, Roccapalumba, San Cono e Santa Margherita Belice, ma anche l'università. Questo progetto ci terrà in buona compagnia per circa 18 mesi e riteniamo di poter fornire alla collettività, a tutto l'universo di riferimento delle prese agroalimentari siciliane, una nuova opportunità di reddito, una nuova opportunità di sviluppo per questa Sicilia e pensiamo anche che possa rappresentare sicuramente un punto di riferimento per i tanti giovani che in questi ultimi anni, anche in epoca di Covid e di pandemia, guardano all'agricoltura come un'opportunità, guardano all'agricoltura come un'ottima collocazione del loro tempo e investimento del loro futuro. Il nostro ruolo all'interno del progetto è stato quello di progettare l'intero intervento, quindi di redigere il progetto, di occuparci dell'organizzazione del partenariato e dei rapporti con gli enti pubblici. Questo è nella prima fase. Nella seconda fase invece il nostro ruolo sarà quello di seguire da tecnici specializzati di filiera, quali siamo, la tracciabilità della filiera, cioè monitorare tutti i passaggi dalla produzione alla trasformazione che il prodotto subirà all'interno del processo. Siamo nel cuore della DOP, dell'ETA e del Figo d'India e di qui che ospiteremo questo bel progetto, nel particolare quello che faremo è creere un imbiando pilota con l'obiettivo di andare ad estrarre quelle che sono alcune caratteristiche peculiari di questo frutto. Faremo la separazione dalla polpa dalla buccia, separazione succo dalla polpa e poi la separazione dell'olio dai semi del Figo d'India stesso. L'obiettivo è quello di andare a ricercare, quindi andare a valorizzare quelli che sono gli scarti del Figo d'India in un'ottica di un'economia circolare, ovvero che valorizza non solo il prodotto fresco in quanto tale, ma anche e soprattutto quelli che sono gli scarti di questo meraviglioso frutto.